Le pale meccaniche scavano in località piana del comune di Salento per portare alla luce i rifiuti tossici interrati negli anni 90 su alcuni terreni privati. Lo riporta il giornale La Repubblica, firma del giornalista Vincenzo Rubano. L'ordine è partito direttamente dal procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania, Antonio Ricci, e del sostituto Vincenzo Palumbo, sottolinea Rubano. Sacchi di juta, bidoni di plastica, fanghi tossici, tutto sotterrato a più strati in piena zona protetta del Parco Nazionale del Cilento. Gli inquirenti sospettano che ci possa essere la mano della criminalità organizzata. La denuncia è partita da un cittadino. I camion arrivavano di notte, scaricavano e andavano via. Nessuno poteva mai immaginare che fossero carichi di rifiuti. Il dubbio mi è sorto solo da alcuni anni dopo aver notato un incremento dei casi di tumore. Inquirenti della Procura di Vallo della Lucania stanno indagando sui rapporti tra imprenditori del posto e clan dell'agronocerino sarnese, egemoni sul territorio tra gli anni 80 e 90. La Procura Vallese mira a far luce sulla gestione del business dei rifiuti nei terreni in località Piana del comune di Salento, rifiuti che le pale meccaniche continuano a tirare fuori dal sottosuolo. Oltre 50.000 metri quadri di terreno sottoposto a sequestro in cui sarebbero stati nascosti rifiuti di ogni genere. Si tratta di fondi privati che negli anni 90 erano stati affittati ad imprenditori senza scrupolo, un business imperniato su rifiuti dannosi sia per l'ambiente sia per chi ne viene a contatto, ma che ha fatto risparmiare miliardi di vecchie lire a chi doveva smaltire gli scarti altrove. E dietro ad un affare così redditizio, gli inquirenti sospettano che ci possa essere la mano della criminalità organizzata. Gli investigatori indagano a ritroso, continua Rubano, partendo dalla denuncia di un cittadino raccolto lo scorso anno dal capitano dei carabinieri Mennato Malgeri. Ma c'è di più. Secondo altre segnalazioni, negli anni 80 i rifiuti sarebbero stati utilizzati anche per riempire alcuni tratti del tracciato della strada cilentana, cosa questa ancora da verificare, ma sulle iscrivanie del procuratore Antonio Ricci e del sostituto procuratore Vincenzo Palumbo, che coordinano le indagini, c'è anche il verbale di una vecchia audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia del 17 settembre 1993, in cui l'allora presidente Luciano Violante interroga il collaboratore di giustizia Pasquale Galasso, uno tra i più noti capi della Camorra. Galasso ammise di aver percepito tangenti per la costruzione della diga lento, specificando che l'impresa Sorrentino S.P.A. in quel periodo si stava staccando dall'organizzazione di Cutolo per passare con il suo clan, e che la costruzione della diga lento è stato uno dei primi lavori in cui la Sorrentino ha fatto da tramite con il clan, per quanto riguarda le tangenti. Alla luce di questa confessione, secondo gli inquirenti, la criminalità napoletana potrebbe aver influenzato anche la costruzione della strada cilentana realizzata, non a caso, negli stessi anni della diga e nello stesso territorio cilentano, ma al momento si tratta solo di ipotesi, quel che è certo è l'aumento dei tumori in tutto il Cilento.